il centro storico di voi che mi ricordi i tempi antoici che cagnano di generazione senza cagnare tradizioni ci ho insegnato i nonni di pedra eccociò ci ho amamparato sono state brevazza e noi l'amo a tramandare un tempo di una volta ci stiva meglio per poche niente ci stivano armonoi per la famiglia e i più parenti quando avemmo a mangiare non potemmo a cominciare se a tavola non ci stiva né la mamma né il papà quando la sera entra la famiglia ci forniva da mangiare fornavo il tuo cuarosello ci avemmo l'icolo qua e in quei anni se ne facemmo i piaciri che si era appena gli va a chiesa non ti devono manco un pene un centro storico di voi che mi ricordi i tempi antoici che cagnano di generazione senza cagnare tradizioni ci ho insegnato i nonni di pedra eccociò ci ho amamparato sono state brevazza e noi l'amo a tramandare un tempo della volta ci stiva meglio per poche niente ci stivano armonoi per la famiglia e più parenti quando avemmo a mangiare non potemmo a cominciare se a tavola ci stivano né la mamma né il papà quando la sera entra la famiglia ci forniva da mangiare fornavo il cuarosello ci avemmo l'icolo qua e guai annaudi si piaciri e non facemmo i canziani che appena gli va a chiesa non ci devono manco un pene a a a a a Grazie a tutti.